eccoci qua eccoci qua buonasera a tutti c'è già qualcuno collegato? bene qualcun altro si sta collegando? bene come state? tutto bene? come va? come procede a casa? buonasera ciao Elisabetta eh dobbiamo restare ancora a casa un pochino dobbiamo resistere siamo duro intanto ci vediamo con le nostre dirette mi raccomando continuate ad allenarvi siete bravissimi se riuscite a seguire le nostre dirette buonasera Esther buonasera Micaela Alessandro allenatevi costantemente chi pratica yoga chi mi segue anche con i miei gruppi privati su facebook il mio profilo sa quanto è importante in questo momento soprattutto respirare aumentare la capacità polmonare ciao Stefi ciao ciao Kate ciao Caterina è importantissimo mantenere la capacità polmonare quindi lavorare col respiro lavorare anche con la pratica quindi abbinare ciao Raffaele buonasera ben trovati a tutti ciao Manu ciao abbinare il respiro al movimento sia il respiro le respirazioni la tecnica delle respirazioni lo sappiamo si chiama Pranayama per chi magari non è pratico dello yoga magari ha le prime lezioni o si approccia proprio adesso perché magari è curioso perché magari ha bisogno di rilassarsi di allontanare la tensione l'ansia lo stress che ci possono stare in questo momento siamo tutti costretti a casa in una situazione che non è normale ed è anche un po' di tempo quindi comunque praticare yoga praticare il respiro è fondamentale uno per alzare le difese immunitarie e mantenere forte il nostro esercito due per allontanare lo stress la tensione liberare un po' la mente svuotarla dai pensieri pesanti dai momenti un po' più così difficili che ci possono essere anche in questo momento in questo periodo così particolare bene questa sera facciamo una lezione di Postural Yoga Therapy Fit Yoga vi avevo un po' anticipato sul quarto chakra che è fondamentale ed è proprio una lezione azzeccata in questo momento perché il quarto chakra corrisponde al timo che si trova qua sopra il nostro cuore è una ghiandola ciao Stefano ciao è una ghiandola piccola ma è potentissima importantissima perché è la base del sistema immunitario quindi noi dobbiamo assolutamente portare equilibrio al nostro timo al nostro quarto chakra stasera se questo nostro organo è scarico lo andiamo un po' a caricare di energia se invece ha troppa energia in eccesso lo andiamo a togliere quindi portiamo con lo yoga sempre equilibrio possiamo a ognuno di noi a una situazione diversa quindi avere energia più in un punto piuttosto che in un altro quando facciamo la nostra pratica di yoga andiamo a riequilibrare la nostra energia a stimolare degli ormoni quindi andiamo a lavorare molto più in profondità ve lo ricordo sempre perché è fondamentale ciao Desi ben arrivata e quindi non andiamo solo sui muscoli e sulle articolazioni ma andiamo sugli organi sulle ghiandole perché andiamo proprio a lavorare su quegli ormoni che stimolano le nostre ghiandole stasera è il quarto chakra è il timo il nostro sistema immunitario quindi mi raccomando facciamo una nostra bella lezione ciao Chiara ciao e vedrete che comunque vi sentirete subito meglio dopo più rilassati più allungati e portato in equilibrio appunto la nostra ghiandola del timo del nostro sistema immunitario quindi i nostri soldatini saranno tutti più potenti ne ho approfittato di questi 5 minuti di apertura prima di iniziare la lezione per introdurvi appunto il chakra della serata che cos'è lo yoga e cosa sempre andiamo a fare quando facciamo pratica continuate a essere così bravi continuate a praticare se avete domande volete chiedermi informazioni non esitate a farlo via whatsapp chiami un numero oppure su facebook via messenger per qualsiasi cosa in generale anche magari per come affrontare le giornate se vi sono dei momenti di troppo stress o paura o tensione vi posso aiutare volentierissimo e cos'altro vi volevo dire quindi ci serve semplicemente un tappetino se avete una mattonella con voi se no un asciugamano un cuscino va benissimo anche un cuscino perché magari ci potrebbe servire per non andare a forzare le asana quindi a lavorare senza mai andare a forzare il corpo ecco volevo chiedervi questo mi è venuto in mente com'è la musica sentite la musica la mia voce tutto a posto ci sono sempre un po' i primi feedback che vi chiedo per vedere se è tutto ok aspetto un pochino per vedere poi parto subito buonasera a tutti siete tantissimi mi fa molto piacere io direi che è tutto perfetto no? voce e volume della musica in modo che non ci possa dar fastidio bene allora andiamo a sederci partiamo con un po' di riscaldamento i primi elementi sono movimenti che vanno a riequilibrare grazie a Steffi vanno a riequilibrare il prana quindi la nostra energia ok? quindi andiamo abbandono le mie fantastiche babbucce come si dice e ci sediamo qua bene ok quindi siamo seduti mani sulle nostre ginocchia il nostro lavoro iniziale serve per riequilibrare l'energia connettere il respiro al movimento a questo vinyasa quindi la schiena la prima attenzione è la postura la schiena bene dritta le spalle lontane dalle orecchie rilassate rilassate le spalle le braccia la nostra schiena si allunga bene quindi sentiamo due grandi forze un radicamento dei nostri glutei delle due ossicina dei glutei le tuberosità ischiatiche ben radicate a terra mentre la testa sale bene verso l'alto il vertice della tua testa sale verso l'alto e quindi la mia colonna vertebrale prende spazio si allunga le mani potete lasciarle sulle cosce o alle ginocchia e inspira lenta l'aria entra dal naso se vuoi chiudi gli occhi porta l'aria nella gola nei polmoni che si aprono si espandono si stiracchiano l'aria arriva fino alla tua pancia e poi la pancia si sgonfia l'aria torna a salire fa il percorso contrario torna su ed esce dal naso se riesci perché nello yoga la respirazione è sempre naso-naso per scaldare l'aria per rendere più elastici i nostri polmoni l'aria è più pura così viene filtrata maggiormente dal naso continua a respirare lenta l'aria entra lenta l'aria esce e semplicemente andiamo a fare come una grande onda con la nostra schiena quindi la nostra colonna vertebrale diventa il corpo di un serpente l'osso sacro è la testa di questo serpente e noi con le spalle rilassate andiamo a scendere il mento chiude al petto il mento apre mi fai un bel respiro l'aria entra inspira e l'aria esce ancora una volta l'aria entra il mento chiude l'aria esce bene proviamo a farlo al contrario questa onda ok immagina proprio come un serpente la tua colonna inspira apri bene il petto stiracchi muscoli stiracchi le spalle le postole apro ancora una volta in ritorno al centro questa onda adesso me la dai di lato quindi prima le spalle poi il collo poi la testa le spalle sono morbide le braccia sono morbide sento le mie anche sento le mie spalle sento le mie ginocchia prendo sempre più consapevolezza del mio corpo la mia testa segue il movimento leggero e profondo di questa onda cominciamo a fare un grande cerchio per scaldare la nostra schiena quando inspiro apro il petto quando espiro chiudo immaginate adesso di avere come un palo al centro noi con la nostra schiena col busto andiamo ad aprire e chiudere e a massaggiare questo palo col petto e poi con la schiena poi dall'altra parte inspiro apro ed espiro chiudo inspiro apro bene il petto il cuore la gola ed espiro chiudo ancora una volta inspiro apro bene abbiamo detto oggi la ghiandola di riferimento del quarto chakra è il timo è qui sopra il cuore quindi lavoreremo molto su questa fascia aprendo bene il nostro petto quindi facciamo già adesso di concentrarci su questa zona di porre sempre attenzione e mentre vado ad allungare un po' il tratto cervicale ogni volta che inspiro espando bene il petto visualizzo l'aria che entra proprio nel petto le scapole si aprono e quando l'aria esce dalla pancia l'aria torna a salire continuo a scendere l'orecchio quasi fino alla spalla ma senza contrarla mi raccomando e ruoto la testa a destra e a sinistra con la coda dell'occhio cerco il punto più dietro di me cerco proprio di guardare con la coda dell'occhio la mia parete dietro ora il mento scende giù lentamente inspira lenta l'aria entra espira lenta l'aria esce ancora una volta il mento scende e il mento sale bene ci fermiamo portiamo le mani ai lati dei glutei inspiri porti le mani che si toccano sopra la testa espirando appoggio la mia mano sinistra spingo e fletto il busto in questo senso dalla parte opposta il fianco sinistro il fianco destro va a destra sono a specchio in modo che potiate seguirmi di fronte a me dall'altra parte inspiro mi allungo ed espiro spingo il mio fianco sinistro a sinistra non faccio grinze sul lato destro poi vado in torsione una mano sul ginocchio il centro del capo che sale bene verso l'alto prendi spazio nel petto inspiri apri il petto le spalle si allontanano dalle orecchie sempre quando espiro vuoto lo sguardo dietro e le spalle sono allineate guardo al passato con serenità senza paura senza rimpianti torno cambio inspiro ogni asana che porta lo sguardo dietro di noi è un asana che ci fa rapportare al nostro passato mantieni bene gli allineamenti delle anche delle spalle continuo a respirare torniamo al centro mani alle ginocchia inspiro apro e poi scendo con le mani con i gomiti e con la fronte in appoggio e cerca di restare stiamo allungando la bassa schiena stiamo andando sulle anche quindi già lavoriamo sulla parte bassa della nostra schiena porto proprio il petto in appoggio sulle mie caviglie sulle cosce e lentamente torno bene ok ragazzi partiamo con il nostro vinyasa come sempre la nostra parte più dinamica è il vinyasa che si alterna le asana statiche tutto sarà incentrato sul quarto chakra quindi il lavoro sull'apertura del petto le mani sotto bene le spalle i polsi sono forti apri bene le dita le ginocchia sotto le anche come vedi le spalle sono allineate alle tue anche lo sguardo a terra quando inspiro apro bene il petto tutta l'aria entra dal naso quando espiro risucchia l'ombelico tutta l'aria esce dal naso vai a toccare col vento il petto lo sguardo all'ombelico cresci più che puoi ancora due inspira cerca di portare dentro più aria che puoi ed espira sempre lascia andare l'aria dal naso ancora una volta inspira apro bene il petto se vuoi chiudi gli occhi entra in connessione ancora di più col tuo respiro bene vado subito a fare le mie onde che mi scaldano mi portano a scaldare il corpo ad allungare la schiena concentratemi oggi ragazzi sull'apertura del petto quando scendi con i glutei sui talloni apri bene il metto su e ancora inspiro il mento chiude espiro il mento apre ora da qui per tre volte inspiro vado a scendere in balasana il bambino e porti la fronte in appoggio che hai ogni volta fronte giù glutei sui talloni inspiro salgo ed espiro fronte giù glutei sui talloni inspiro salgo ed espiro fronte giù glutei sui talloni provare a stare qui un solo respiro lungo lento e profondo dal naso poi vado a scendere piano piano con le mani prima la destra poi la sinistra nell'asana per eccellenza del quarto chakra anatasana apro il petto vedete appoggio il mento guardo in avanti cerco di aprire tantissimo il petto e la parte alta della mia schiena ogni volta che inspiri sollevi la testa leggermente espiri lasci aprire bene il petto le scapole si aprono ancora due inspiro e fuori l'aria ancora tre inspiro e fuori l'aria da qui ragazzi andiamo a fare tre grandi onde ancora apro il petto e chiudo inspiro apro ed espiro chiudo anatasana chakra è il quarto chakra che si chiama anna ed è il nostro team mi porto con le mani sotto le spalle le ginocchia in appoggio perché se la sente punta i piedi e mantieni un pochino la protesa spalle lontane dalle orecchie mantieni il respiro lente profondo dal naso e lentamente gomiti stretti scendi appoggiando l'addome il petto le mani ragazzi sotto le spalle andiamo a fare il nostro cobra buccia gasana abbiamo detto che apriamo il petto rinforziamo il nostro timo il sistema immunitario quindi quando inspiri apri bene il petto il cuore lo sguardo alla fronte al terzo chakra i piedi sono uniti dietro come se volessero toccare la testa e lentamente scendo ancora due inspiro ed espiro ancora tre inspiro apro ed espiro bene ora vado a portare le mani in appoggio ci prepariamo per la spinge con le dita tiro il tappetino apro il petto apro la gola inspira apro e fuori l'aria scendo come due grandi onde ancora due e lascio andare ancora tre mentre i tuoi piedi sono allungati bene dietro è come se qualcuno ti tirasse per i piedi dietro torno porti le mani sotto le spalle inspiro vado a salire ragazzi provate a spingere bene in avanti le anche e le spalle sono ben lontane dalle orecchie sono le ginocchia in appoggio per tre volte inspiro apro ed espiro scendo inspiro apro ed espiro scendo inspiro apro ed espiro scendo ora chi se la sente prova a sollevare anche le ginocchia se no le ginocchia le tiene in appoggio mi raccomando inspiro passo di nuovo dal gatto scendo in balasana resto con i glutei sui talloni inspiro gatto apro cane e faccia in giù ad un ucca shvanasana resta qua da me giù bene i talloni mantieni questo allungamento apri bene le dita delle mani le dita dei piedi le spalle lontane dalle orecchie lenta l'aria entra dal naso e lenta l'aria esce bene ragazzi proviamo tutti a scendere sui gomiti vado in appoggio sui gomiti incrocio i pollici palmi delle mani a contatto vado a proprio a lavorare sul mio timo lascio tre respiri questa posizione resta andiamo a portare tutta l'energia al quarto chakra a riequilibrare questo chakra lenta l'aria entra dal naso e lenta l'aria esce i talloni sono ben in appoggio a terra il sacro cerca di salire bene verso l'alto ancora due ancora tre e torno torno cane a faccia in giù mantieni bene andiamo di nuovo nel gatto inspiro apro espiro scendo ancora una volta in balasana porto la fronte alle ginocchia magna i miei talloni inspiro sansangasana risucchia lombelico andiamo a fare il coniglio le ginocchia ragazzi devono proprio toccare la fronte quindi se non sono appoggiato ancora provate a camminare con le ginocchia verso la fronte e a sollevare bene il vostro bacino le anche sono allineate ancora un respiro e torniamo lentamente torniamo ancora ancora una volta qua inspiro apro espiro cane a faccia in giù resta bene mantieni questa asana mantieni l'apertura del petto le spalle lontane dalle orecchie e adesso ragazzi vado a scendere in protesa direttamente porto le mani sotto le spalle forte la tua schiena mi raccomando lentamente scendo ancora arrivo giù e salgo subito cobra braccia tese le ginocchia me le tieni in appoggio spingi bene avanti le anche spalle lontane dalle orecchie inspira lenta varia entra espira lenta varia esce ora ragazzi restiamo e vado a portare il gomito sinistro in appoggio in avanti vado a portare il braccio destro che fa una circonduzione dietro e va a prendere la caviglia destra dall'interno arda danurasana quando inspiro apro il mio petto lavoriamo sul quarto chakra il ginocchio destro si solleva da terra inspiro guardo verso l'alto lo sguardo al terzo occhio espira lascia ancora inspira salgo espira lascia inspira salgo espira lascia cambio lato quindi il gomito destro in appoggio braccio sinistro vado a prendere la mia caviglia mi raccomando dall'interno se riuscite le ginocchia sono unite inspiro apro espira lascia arda danurasana al mezzo arco a terra torno ancora inspira lenta l'aria entra espira l'aria esce bene resto vado a incrociare le dita delle mani dietro la schiena ragazzi la fronte giù ma risucchia bene l'ombelico ora inspiro sollevo le braccia per tre volte e ritorno e ancora sollevo sollevo anche i piedi le gambe parallele e ritorno e ancora una volta inspiro salgo e ritorno mani di nuovo sotto le spalle inspiro cobra braccia tese chi vuole stacca questa volta le ginocchia cane a faccia in su lenta l'aria entra le mani sono bene sotto le spalle lenta l'aria esce torna qua da me inspiro andiamo a compensare cane a faccia in giù e scusate balasana bambino fronte a terra inspiro gatto espiro cane a faccia in giù ancora bene ancora una volta ragazzi scendo sui gomiti i pollici sono incrociati i palmi delle mani a contatto mantieni tre respiri cerca di restare un pochino di più rispetto a prima apri bene il petto forza uno due e tre torniamo cane a faccia in giù di nuovo scendo rotesa forza resta questa volta ragazzi sollevo la gamba destra tesa mantieni uno due tre cambio sale da sinistra mantieni uno due tre torno scendo lentamente appoggio ancora una volta il petto la pancia l'addome danurasana l'arco a terra quindi inspiro le mani vanno a prendere caviglia destra caviglia sinistra ginocchia unite inspiro apro lo sguardo alla fronte ginocchia unite mi raccomando cerca di aprire bene il petto il cuore la gula uno inspira lenta l'aria entra e lascia ancora una volta inspira apro e lascio bene lasciamo andare mani sotto le spalle cane a faccia in su chi può sollevare le ginocchia da terra inspira cane a faccia in giù espira apri bene la distanza delle mani apri bene la distanza dei piedi come quella delle tue anche rilassa rilassa ultima volta ragazzi bravissimi forza scendo sui gomiti incrocia i pollici mani a contatto uno mi raccomando l'aria lenta entra sempre dal naso lenta l'aria esce dal naso due e tre torniamo cane a faccia in giù gatto inspiro apro il petto espiro ballasana rilassa le mani avanti la fronte in appoggio culla un po' la tua schiena e sposti il peso da destra a sinistra la fronte in appoggio dopodiché mi lasci le mani sui talloni e scarichi ancora di più la tua colonna bene adesso lentamente mi porti le mani sulla bassa schiena e sollevi il peso sulle tue ginocchia vado ad aprire il mio petto per tre volte tre grandi onde inspiro apro ed espiro chiudo risucchia l'ombelico fronte in appoggio inspiro apro ed espiro chiudo risucchia e scendo l'ombelico giù la fronte l'ultima volta inspiro apro ed espiro chiudo ok ragazzi adesso vado a fare alcune asana statiche per concludere per concludere la nostra pratica quindi mi soffermo di più sull'asana per tre o quattro respiri chi vuole chi può anche cinque respiri e andiamo proprio a partire da ustrasana abbiamo visto adesso la nostra onda abbiamo scaldato il nostro corpo chi riesce le dita delle mani le porta sulla bassa schiena gomiti più stretti che potete spalle lontane dalle orecchie inspiro spingo avanti il mio bacino apro il petto il cuore la gula resta qua per chi all'inizio mi raccomando un pochino se la sente resta qua chi può prova a chiudere l'asana portando le mani sui talloni e spinge avanti il bacino e turno bene ci sediamo in dandasana dandasana il bastone i piedi sono uniti le mani sono anche 30 cm dietro ai glutei abbiamo detto timo quindi il petto perciò dobbiamo proprio quando inspiriamo sentire l'apertura del nostro petto il centro del capo che sale bene verso l'alto e i piedi spingono avanti a martello quindi inspiro sali bene verso l'alto ed espiro lascio inspiro vado su apro bene il petto le spalle sono lontane dalle orecchie ed espiro lascio andare ancora una volta inspiro il centro del capo sale come se la mia colonna fosse un grattacielo che si allunga bene verso l'alto verso l'alto verso l'alto e lascio paschimutanasana a perché a perché è la prima pinza col petto che resta in apertura inspiro e allungo bene con le braccia verso l'alto espirando la testa e fra le braccia vado a prendere con l'indice medio il mio alluce inspiro apro le spalle sono lontane dalle orecchie e quando espiro scendo lentamente le costole massaggiano le cosce le spalle sono lontane allineate sento come se avessi un sole sul petto che illumina la parete davanti a me ancora per due onde inspiro apro ed espiro lascio inspiro apro ed espiro lascio paschimutanasana a è la prima pinza in apertura cercate di sentire come il corpo sta cedendo da solo non sto forzando con le braccia sto solo respirando nell'asana e il mio corpo lentamente scende bene torno ancora un'asana per il mio quarto chakra vedete che sto facendo estensione flessione estensione sono sempre sequenze ben definite porto i miei piedi sotto le ginocchia e vado a fare push vottanasana quindi inspiro apro porto le mie mani dietro i glutei apro bene le spalle preparo push vottanasana prima salendo un pochino solo col bacino prendo le spalle poi torno ancora due inspiro apro sollevo un pochino e scendi e adesso sali apri il petto le spalle sollevi il bacino più che puoi lo porti proprio verso l'alto l'ombelico le ginocchia spingono in avanti apri bene la testa e la fronte cade dietro quasi la parete dietro lo sguardo uno continuo a respirare lente e profondo dal naso due e tre scendiamo piano piano il stucchio l'ombelico scendo giù torno ancora una volta avanti bene vado a inspirare porto sulle mie braccia ancora una volta scendiamo questa volta nella pinza chiusa il petto scende sulle cosce indice medio vado a prendere l'alice e vado proprio in chiusura completa ho come due forti questa volta la testa si allunga in avanti mentre l'ombelico viene risucchiato dietro come se qualcuno mi prendesse a livello delle anche e mi risucchiasse dietro quindi resto in questa chiusura ancora un respiro lenta l'aria entra inspira e lenta l'aria esce provate a restare un po' nell'asana respirando sentire cosa cambia cosa accade nel corpo e nella mente torno pushvottanasana con le gambe tese proviamo forza dietro 30 cm le mani dita bene rivolte in avanti sollevo il bacino gambe tese sollevo su la pianta dei piedi appoggiata a terra uno mantieni su il bacino più che puoi due apro bene il petto la luna e torniamo scendo ci prepariamo per un'altra chiusura per massaggiare il nostro petto lentamente scendete giù ragazzi porti le ginocchia al petto per favana muktasana quindi vado ad abbracciare le mie tipie le mani sui gomiti porto proprio le mie ginocchia al petto restando giù con la testa e con le spalle quando inspiri l'aria entra quando inspiri l'aria esce quando inspiri l'aria entra porti l'aria nella tua pancia quando inspiri lascia andare una situazione che ti sta creando stress tensione lascia andare la stanchezza della giornata lascia andare un'emozione negativa e vado anche un po' ad ondolare a destra a sinistra massaggio la bassa schiena massaggio le spalle ora con le mani alle caviglie metti i piedi sotto le ginocchia andiamo di nuovo a fare un'apertura setubanda sarvangasana sollevo il ponte il bacino le ginocchia spingono in avanti le anche verso l'alto incroci le dita delle mani sotto i glutei appoggiando i mignoli bene a terra mantieni questa posizione mi raccomando cerca di stare con i mignoli a terra i palmi delle mani a contatto uno due e tre e torniamo lentamente porto adesso lavoro sull'addome portando le mie ginocchia proprio al petto vedete inspiro come una pallina vado a massaggiare la mia bassa schiena porto le ginocchia al petto fino a quando porto proprio le ginocchia ai lati delle orecchie e vado a chiudere il mento sul mio petto all'asana prova a tenere le gambe tese e il dorso dei piedi appoggiato a terra chi può incrocia di nuovo le dita delle mani qua dietro la tua schiena in appoggio i mignoli uno due tre e lentamente torniamo ci aiutiamo per snocciolare la nostra colonna e vado a portare in avanti le mie gambe puttana padasana apro ancora il petto quindi abbiamo le nostre gambe vedete bene avanti i piedi a martello i gomiti sotto quando inspiro apro appunto il mio petto spade lontane dalle orecchie e porto il centro del capo a terra resto qui nella posizione facilitata uno due e tre bene lentamente lascio porto ancora una volta le mie ginocchia al petto questa volta ragazzi le mani sono sulle ginocchia divaricate quindi inspiro chiudo le ginocchia divarico sollevo il bacino fuori l'aria inspiro chiudo espiro fuori inspiro chiudo espiro fuori porto semplicemente i piedi sotto le ginocchia una mano sul petto una mano sulla pancia e vado a basculare un po' il mio bacino semplicemente questo quando inspiro apro il petto l'aria entra nel petto fino alla tua pancia che si gonfia e quando espiro lascia andare tutta la tensione la stanchezza della giornata ancora una volta inspira l'aria entra nel petto ed espira lascia andare bene adesso ci giriamo sul fianco per salire e riprendiamo il nostro lavoro di equilibrio del prana per sentire cosa è accaduto nel corpo se abbiamo una sensazione diversa quindi di nuovo la nostra onda connettiamoci col respiro e grazie alla nostra attenzione alla nostra concentrazione sul corpo sulla mente proviamo a chiederci cosa è cambiato nel corpo se il mio stato emotivo è cambiato se adesso mi sento più attento più concentrato più rilassato se ho più benessere nel mio corpo nella mia mente cambio apro il petto e torno questo lavoro insieme respiro e yoga pratica dello yoga pratica delle asana che sono le posizioni che ci aiutano a muoverci consentono di aumentare la nostra consapevolezza la nostra percezione sul corpo di ascoltare i nostri messaggi del corpo ventiamo assolutamente più presenti a noi stessi ci aiutiamo perciò perché possiamo riuscire a prevenire qualsiasi sintomo o qualsiasi tensione che proviamo a sentire che si possa essere sia nel corpo che nella mente noi abbiamo molta più attenzione a questo segnale quindi riusciamo a lavorare in tempo a prevenire non siamo disconnessi da noi dal nostro corpo ma siamo straconnessi e più pratichiamo più lo siamo e siamo anche più presenti alla nostra equilibrio è quella cosa nello yoga la consapevolezza che ci porta a connetterci sempre di più con noi stessi a ritrovarci cambio lato inspiro apro il petto ed espiro più quindi questi momenti che dedicate a voi stessi di pratica di respiro di attività fatele davvero con la presenza in voi con consapevolezza sentendo che state facendo qualcosa che vi aiuta a stare meglio lasciate andare lo stress la tensione state facendo una cosa per voi quindi con amore per voi stessi perché vi mettete al primo posto della lista non dimenticate che siete stra importanti per voi e abbiamo ancora dall'altra parte l'ultima volta inspiro apro il petto ed espiro chiudo e inspiro su mani che si toccano mi allungo e vado ad allungare il fianco le spalle si allontano dalle orecchie restiamo qualche secondo in più rispetto a prima inspira l'aria entra apri bene ancora di più il petto le spalle ed espira ti allunghi cambio lato inspira prima sali verso l'alto ed espira concentriamoci proprio sul petto le spalle sono allineate vado a scendere bene col mio fianco sinistro a sinistra non faccio grinze sul lato destro di nuovo sulle mani inspiro entra in torsione una mano sul ginocchio l'altra dietro provo a far sollevare anche il braccio dietro e guardo oltre la mia mano il mio passato quando inspiro il capo sale quando espiro guardo con tranquillità sicurezza il mio passato e cambio lato inspiro ruoto e apro il mio braccio dietro la schiena è bella dritta mi raccomando inspiro il petto sale ed espiro ruoto torno al centro incrocio le mie dita le porto prima al cuore inspiro ed espiro mi allungo e torno ancora inspiro e fuori l'aria sali sempre le spalle lontane dalle orecchie e l'ultima volta inspiro mi allungo bene verso l'alto ed espiro apro braccia fuori incrocia le dita dietro palmo della mano dietro per tre volte la stessa cosa inspiro apro il petto le braccia salgono ed espiro lascio inspiro apro il mio petto stimoliamo il quarto chakra e ancora una volta inspiro apro ed espiro il quarto chakra si chiama anacasa ed è il chakra del cuore dell'amore quindi andiamo a lavorare proprio sull'esternare i nostri sentimenti quando riusciamo ad esternare i nostri sentimenti senza paura allora abbiamo in equilibrio il nostro quarto chakra l'ultima onda inspiro apro il petto porto su le braccia ancora una volta incrocio le dita delle mani porto le mani sulla testa quando inspiro una leggera pressione una leggera pressione delle mani sul capo apro bene il petto le spalle sono lontane dalle orecchie e lascio ancora due inspiro salgo ed espiro lascio l'ultima volta inspiro salgo ed espiro lascio mani alle ginocchia un'ultima grande onda inspiro apro scendo con le mani i gomiti la fronte cerca il tappetino il suolo cerca di scendere più che puoi e resta qui per un ultimo respiro lento e profondo di questa pratica e torniamo a salire il nostro respiro consapevole bene li vengo a salutare ok bene grazie a voi grazie per esserci stati anche questa sera spero siete riusciti a seguire bene la lezione su facebook la trovate salvata e su instagram per 24 ore ci sarà la diretta io vi saluto ciao monica ciao lumilla ciao giorgia ciao a tutti vi auguro una buona serata una buona cena e ci vediamo mi raccomando giovedì mattina qui sulla bacheca di sport city su facebook oppure ciao beba oppure su instagram alle 11 giovedì faremo functional yoga quindi più attiva la lezione più dinamica preparatevi e vi mando un abbraccio virtuale un bacione grazie ciao a tutti alla prossima un abbraccio un abbraccio un abbraccio